La mia famiglia guardia può essere una volta ai due giorni Però ammigliamenti perché allora anche questi giorni ci sono molto più giorni Oss, mamma, è il penne? Movimento, quello è, moviment Vieni 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 Guarda, dobbiamo giocare tutti C'è, inizio, vabbè tutto Ah, no, no, vedi, non è solo lì È tutto cuore Ops Ops